Una diteggiatura completamente diversa per suonare una nota che già abbiamo sentito però nella sua versione di bass grave, di suono grave, che si tratta della nota re, però questa volta saliamo di un'ottava e questa è la nota re, diciamo medio, al centro del pentagramma e la nota re si trova sulla quarta riga, sul quarto rigo del pentagramma. Allora, la diteggiatura per la nota re, qui dobbiamo dare un po' più di fiato, anzi partiamo prima dalla nota re, da re diesis, va bene? e poi scendiamo di un semitone e andiamo alla re naturale. Allora, questo re diesis, quarto rigo del pentagramma. Adesso re naturale. Re diesis, la diteggiatura è complessa. Questo re diesis, di nuovo re naturale. Allora, adesso vediamo la diteggiatura. Mentre ieri per le note gravi, diciamo siamo partiti, in particolare quella più grave, il do grave, sotto il pentagramma, tappando tutti i fori, tutti i fori, e anche quello, diciamo, dietro, va bene? In questo caso invece per la nota re, nota re, diciamo media, stiamo a metà del pentagramma, a metà del range, diciamo, dell'estensione dello strumento, del flauto tenore, quindi quarto rigo del pentagramma e la posizione del re, re, re è questa. Dietro il foro lasciamo libero il pollice, lo scendiamo sotto e con il dito medio della mano sinistra andiamo a tappare il secondo foro. Ecco, il secondo foro. Questo è per il re. Invece per il re diesis dobbiamo con l'anulare tappare il terzo dito nella parte superiore del flauto, poi l'indice medio e anulare vanno a tappare i tre fori sotto, compreso tappare entrambi i due fori qui nel terzo foro sotto e poi lasciando sempre libero il foro posteriore. Ecco questo, lo sentiamo, risentiamo allora re diesis e poi re liberando il foro, una parola, è una parte di foro. Re diesis. Adesso re. Allora, a differenza delle note gravi che diciamo bisogna mettere un filo di fiato qui bisogna diciamo un po' irrobustire l'emissione ma di poco, non di tanto, altrimenti si sale all'ottavo superiore. Grazie.